Eh sì, eh sì, eh sì, eh sì, è sick parade, è sick parade ragazzi, è sick parade, è sì, è sick parade Allora, 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 11 di giugno, 11 di giugno è successa un sacco di roba Ci sono un sacco di cose da dire, ho letto pure un articolo che non riesco a capacitarmene di come sia possibile Credo che se accadesse i tifosi andrebbero in rivolta, ma ne parleremo tra poco Prima di iniziare vi chiedo qua sotto 2000 mi piace, 2000 se oggi volete un altro Se volete tra due ore, tra un'ora, tra mezz'ora, un altro sick parade, 2000 mi piace adesso Altrimenti ovviamente ve lo porto domani, però vi voglio vedere tutti cazzuti, incazzati Dai lasciatesti mi piace, iscrivetevi anche a questo canale, facciamolo arrivare a 100.000 iscritti In modo che insieme a questo, insieme a questo, ci metto pure il terzo Quindi mi raccomando, dai ragazzi, facciamolo arrivare a 100.000 iscritti questo canale Detto questo, passiamo a parlare delle 10 notizie più importanti del giorno La notizia numero 10 riguarda la Lazio Infatti la Lazio sta cercando più possibile di muoversi Andando a prendere delle occasioni che siano in relazione al calciomercato di oggi Cioè del presente, al calciomercato del futuro E la Gazzetta dello Sport oggi ha parlato della Lazio Così come il messaggero ha parlato della Lazio e hanno aperto due parentesi importanti La parentesi relativa appunto alla Lazio sulla Gazzetta dello Sport Parla di una compagine, quella bianco celeste Che avrebbe messo nel mirino un giovane calciatore Ovvero Jacopo Fazzini Chi è Jacopo Fazzini? È un centrocampista dell'Empoli È un classe 2003 È un ottimo calciatore È un giocatore che in realtà piacerebbe molto a Maurizio Sarri Ed è anche una pedina che grazie al suo dinamismo L'abilità, la capacità nell'inserirsi e tutto quanto Potrebbe in qualche modo dare una grossa mano a Maurizio Sarri Anche se poi, a dirvi la verità, ce lo vedo molto poco Nel senso che sicuramente Fazzini è un buon calciatore Però dall'altra parte ci tengo anche a sottolineare come Sarri Difficilmente butta nella mischia i giovani Sarri sceglie 11 giocatori e 11 giocatori sono E a me non sembra che Fazzini sia già pronto per essere uno degli 11 giocatori di Maurizio Sarri Cioè Sarri quando sceglie i giocatori li sceglie perché sono già pronti per fare i titolari Non so quanto realmente ad esempio lo sia Fazzini già pronto per fare il titolare Io credo che invece questo potrebbe essere una sorta di problema Per quanto concerne magari un suo arrivo nella capitale E poi ne parla anche il messaggero della Lazio Ma il messaggero fa nomi un po' più grossi Non parla dei nomi low cost Parla dei nomi che in questo momento esattamente come ve la stavo andando a leggere io Andrebbero a rinforzare notevolmente il centrocampo della Lazio E fa sostanzialmente tre nomi Due di livello Uno di ripiego Però sono tre nomi comunque importanti E sono tutti probabilmente collegati ad una partenza Che sia o quella di Luis Alberto Che però dubito perché non darebbe un ricavo così tanto esoso alla Lazio Oppure quella più probabile di Milinkovic e Davic Che si conosce da diversi mesi Però poi ogni tanto sembra che sia destinato a partire Ogni tanto sembra che sia destinato a rimanere È una cosa che non sappiamo mai Fatto sta però che ci sono tre nomi che orbitano intorno alla Lazio Gravitano in orbita a Lazio Il primo è quello di Zielinski Che conosce molto molto bene Maurizio Sarri Io continuo a dire Trovo fatica Trovo difficoltà nel dire che Zielinski vada ad esempio alla Lazio Ma perché Zielinski è campione d'Italia con il Napoli Giocherà la Champions League da testa di serie Ci sta che possa andare via Ci sta anche che il Napoli decida di cambiarlo Ok? Però per rimanere in Italia e andare alla Lazio Mi risulta abbastanza difficile da credere È vero la Lazio farà la Champions League il prossimo anno Però quante Champions League farà la Lazio nei prossimi cinque anni? Due? Una? Forse al massimo tre? Ecco Zielinski secondo me Alla ricerca di un grande contratto Che comunque potrebbe essere quello più importante della sua carriera Alla Lazio farebbe un po' più di fatica a trovarlo Poi si è fatto il nome di Frattesi Che è un altro calciatore importante Per quanto riguarda i meccanismi di inserimento E giocatori di quel tipo lì Ed è un giocatore che secondo me potrebbe risultare fondamentale Ma davvero fondamentale Per la Lazio E per appunto la dinamicità della mezzala Che deve avere il giocatore alla Lazio E poi infine si è parlato anche di Jetson Fernandes Che sarebbe in realtà il giocatore low cost Il giocatore insomma da appoggiare Portoghese del Besiktas Giocatore super interessante Però chiaramente se parti Blinkovei Cesavic O Cai Frattesi o Cai Zielinski Non puoi andare a prenderti e a presentarti con Jetson Fernandes Alla posizione numero 9 La Juventus Ieri vi avevo parlato O l'altro ieri non ricordo Del fatto che non ci fossero incedibili alla Juventus E che davanti a un'ottima offerta Anche Federico Chiesa Potesse partire E adesso si fanno nomi e cognomi Nel senso che adesso si parla anche di quelle squadre Che sarebbero interessate a Federico Chiesa E sono tecnicamente tre E tutte e tre dalla Premier League Ovvero il Liverpool Che però fa l'Europa League E poi due squadre che faranno la Champions Il Manchester United Che però brucia tutti i giocatori E il Newcastle Che fa la Champions Praticamente per la prima volta Da quando insomma esce Ico Insomma dal nuovo ciclo del Newcastle Che poi esce Ico da manco un anno Quindi insomma Diciamo che il piano Un anno e mezzo forse Diciamo che il piano sta funzionando Al di là di questo Vi ripeto Non lo capisco Cioè per me la Juventus Dovrebbe essere Chiesa e altri undici Cioè qualcuno Qualche giorno fa mi aveva chiesto Tu che faresti partire Se dovessi farne partire Per forza uno tra Vlaovic e Chiesa Io ho detto Vlaovic Perché Vlaovic è più semplice Da sostituire E perché soprattutto Non ci mette quella voglia Quella juventinità Che vedo negli occhi Di Federico Chiesa Per me la Juventus Chiesa deve blindarlo Deve bloccarlo Certo se poi gli arriva un'offerta Da 130 milioni Uno dice Vabbè senti frate Qua stai pisciando fuori dal vasino Allora io Federico Chiesa Te lo do Però non deve essere Messo in considerazione Il fatto che Chiesa Possa partire Chiesa dovrebbe partire Solamente davanti A delle follie Chiesa dovrebbe partire Solamente davanti A delle pazzie Di qualche squadra E personalmente Questo dover Per forza Cedere Federico Chiesa E parlare di Chiesa È una cosa che non comprendo E non comprenderei nemmeno per Chiesa Perché penso che Se andasse a gioare in Premier League Pian pianino Si sgonfierebbe Nella fattispecie Il profilo di Federico Chiesa Posizione numero 8 Per la Roma Che vede I miei mercati che farei E quindi ha messo nel mirino Bulai e Dia In realtà in questo momento Ha fatto solo un sondaggio È ancora di proprietà Del Villareal Non ha In alcun modo Ancora Riscattato la Salernitana Nel giocatore Ma verrà riscattato E Difficilmente Rimarrà poi a gioare Per la Salernitana Ha fatto talmente tanto bene Che il giocatore Verrà riscattato E poi ufficialmente ceduto Per fare plus valenza E il Corriere dello Sport Dice che la Roma Avrebbe fatto Un sondaggio Per Per il giocatore Che ha una clausola Rescissoria Valevole per i 15 Primi 15 giorni Del mese di luglio Pari a 25 milioni Di euro Ora io non voglio Cioè Io penso che Sarei molto contento Se la Roma prendesse Bulai e Dia Però c'è Stanno dei limiti C'è 25 milioni Di euro Per un giocatore Che ha fatto una discreta Buona Dai buona Discreta Sono cattivo Buona stagione In Serie A Mi risulta una cifra Estremamente elevata Che in questo momento Lo dico con grande tranquillità Non pagherei Per andarmi a prendere Bulai e Dia Non pagherei per andarmi a prendere 25 milioni Bulai e Dia 17 18 Siamo lì Ci sta Tu comunque Non hai potuto monetizzare con Abram Perché è rotto E sarà rotto fino a gennaio Hai deciso comunque Di tenere il gallo Belotti Cioè investire 25 milioni Per un attaccante Secondo me sono veramente tanti Soprattutto per un attaccante Che a me piace tanto È fortissimo Lo porterei anche adesso a Roma Ve ne avevo già parlato L'ho messo nel mercato che fare Quindi figuratevi Però 25 milioni è troppo E credo che la Salernitana Possa insomma anche andare a trattare Per le cifre che vi dicevo io 16, 17, 18 milioni di euro Al netto poi di una clausola Decistoria Che certamente ci sarà Ma che comunque può essere Tranquillamente arginata Cioè nel senso La clausola decistoria Non indica il minimo La clausola decistoria Dico sempre Prendica il massimo Cioè tu con quella cifra al massimo Te lo porti a casa Ma nessuno ti vieta Di poter andare a trattare E di provare a prenderlo Ad una cifra Leggermente più bassa Rispetto a quella che è Appunto il paletto Della clausola decistoria Mi auguro che la Roma Riesca a prenderlo Bula Iedia Perché per me è veramente Un attaccante forte Che c'è il senso del gol Il senso della posizione Il fiuto del gol Il senso della posizione Cazzuto sottoporta In ogni posizione del campo Per me è veramente bravo Però poi ripeto Dipende anche dalle cifre Posizione numero 7 E qua rimango davvero Realmente deluso Ma succede tutti gli anni Individo un giocatore Dico che è veramente forte Un parametro zero Prendiamolo Poi va in un'altra squadra Completamente a caso Almeno questa squadra Fa l'Europa League Anzi la Conferenza League Almeno questo Almeno una gioia di vederlo In una squadra che fa La Conferenza League La Stoneville Ha ufficializzato Ha annunciato Cioè non è che ci sta trattando Ha annunciato Tielemans Yuri Tielemans Io Tielemans Lo volevo alla Roma Ma proprio lo voleva Occhi chiusi alla Roma Quante volte ve l'ho detto Cioè avrebbe fatto Per me parte di un centrocampo Con Cristante Bovia Uar E Matic E l'avrebbe reso Davvero ultra competitivo Invece alla fine Decide di andare Alla Stoneville Probabilmente anche Perché era l'unica offerta Che gli è pervenuta Perché io credo che magari Tra la Stoneville E la Roma Ad esempio avrebbe scelto La Roma Perché faceva l'Europa League Così come anche ad esempio Tra la Stoneville E che so E l'Atalanta Avrebbe scelto l'Atalanta O tra la Stoneville E la Lazio Addirittura avrebbe scelto Ancora di più la Lazio Perché la Lazio Fa la Champions League La Stoneville Fa la Conference League E manco è sicuro Che l'anno prossimo La rifaccia Ok Cioè è difficile Quindi non Cioè capisco che lui Comunque abbia scelto Anche in base alle richieste Che aveva e probabilmente Ne aveva poche Per lui è un upgrade Perché giocava all'Eister E l'Eister è retrocesso Sicuramente è un upgrade Però in questo momento È chiaro come Secondo me La Stoneville Fa un colpaccio Lui è un titolare Della nazionale C'ha 26 anni Ecco forse Se devo essere sincero Ha mancato Quel grande salto Che ci si aspettava facesse Quando ero ragazzino Si diceva Questo Tielemans ragazzi È fortissimo È fortissimo È fortissimo Esploderà 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 Poi a un certo punto Abbiamo aperto gli occhi E siamo arrivati A un Tielemans 26 anni Quindi nel piano della carriera Che ancora non gioca Ad esempio al Real Madrid Al Manchester City Al Bayern Monaco Al Barcellona Però ciò non toglie Che personalmente Io credo Che un giocatore Come Tielemans Me lo sarei preso Molto volentieri Alla fine ve lo ripeto Va a giocare Per la Stoneville Farà forte Il centrocampo Di Emery Di Emery E che cazzo Comunque tutti adesso Mi scrivono Fa farà forte Il centrocampo Di Emery Lo renderà Certamente Ultracompetitivo Però è un grande Dispiacere per me E non ve lo nascondo Sicuramente Posizione numero 6 Per le parole Dell'agente Di Massimiliano Allegri In relazione In relazione appunto All'Arabia Saudita Giovanni Branchini Ha detto Io penso Che non sia cambiato Molto E ne ha parlato Tra l'altro A Sky Sport Quindi non è che Non è che Non è che ci stiamo inventando nulla Allegri è coinvolto Nel progetto della Juventus Che è complicato E difficile Ma lo ha sposato E non penso succederà Nulla di clamoroso Le cose sono state dette Con chiarezza Da lui E dalla società Ecco questa è stata la risposta Della gente Della gente di Allegri Riguardo La sua possibile partenza Road to Arabia Saudita Mi fa ridere I tifosi della Juventus Saranno tipo Prendendo tazzine E lanciando E lanciandole contro il muro Perché Dicono Ma dimettiti Per il bene della Juve Dimettiti per il bene della Juve E lui per il bene della Juve Rifiuta l'Arabia Saudita E decide di rimanere Alla Juventus Questa è una cosa Che mi fa Tanto tanto ridere Non ve lo nego Mi fa veramente Tanto tanto ridere Però al di là di quanto Mi possa far ridere Questa cosa qui Al di là di quanto Io possa provare Divertimento Per una cosa Di questo tipo Mi fa molto ridere Il fatto che In questo momento Oggettivamente In questo momento Massimiliano Allegri Non è ben voluto Dai tifosi della Juventus Come chiaro Secondo me E normale che sia Non è ben voluto Da nessuno Perché la stagione Non è stata positiva Però comunque Lui rimarrà Alla Juventus Non capisco Il motivo del rifiuto Vi dico la verità Probabilmente per passioni Probabilmente per masochismo Nel senso A questo punto Fossi lui quasi Me ne andrei Cioè è stato cacciato È stato trattato Da cani Alla Juventus Non con Cose in sé Motivi insensate Cioè ci sono dei motivi Dietro il suo trattamento Però è stato trattato Da cani Alla Juventus Non si trova più bene Non sta girando Per niente la sua Juventus È sempre messo Sulla graticola E sul padibolo Io personalmente Credo che Sarebbe più sensato Per lui andare via Provare ad andare In Arabia Saudita Ok Però alla fine Lui decide di rimanere Alla Juventus Allora va bene così Va bene per lui Va bene per tutti Figuratevi per me Se non mi va bene L'anno prossimo Continueremo a parlare Di una Juventus Di Massimiliano Allegri L'unica cosa che giudico Giusta È il fatto che Comunque ad andare In Arabia Saudita Fai sempre in tempo Cioè se ti cacciano Tra tre mesi E ti presenti Bussando all'Al Nasr Comunque l'Al Nasr Ti prende lo stesso Quindi Non sarebbe poi così difficile Cercare di Tornare sui passi Invece se vai in Arabia Saudita Tornare poi ad allenare Un grande club Personalmente ritengo Sia veramente più difficile Rispetto che Il percorso inverso Alla posizione Numero 5 Troviamo Il Milan Troveremo anche dopo Il Milan di nuovo Ma stavolta Gli dedichiamo una posizione Per un'offerta ufficiale È pervenuta Un'offerta ufficiale Ne parla il caporedattore Della città giornalistica Turca Sports Digitale E cioè Il Besiktas Avrebbe fatto Un'offerta ufficiale Per Rebic Ora Ne parla questo Questo giornalista Iajiz Sabun Koglu Che però Da quanto ho capito In Turchia È un po' come se fosse Il loro di Marzio Quindi insomma È una persona che Se parla Perché sa L'unica cosa È che le cifre Non sono pervenute Non sappiamo quanto Non sappiamo quanto Effettivamente Aveva offerto Il Besiktas Non sappiamo quanto Il calciatore Venga valutato dal Milan Al momento Le cifre Non le sappiamo E probabilmente Le andremo a scoprire Solamente A tempo debito Le andremo a scoprire Solamente Quando verranno svelate E se l'offerta Magari verrà Ufficialmente Accettata Però al momento La cosa che sappiamo È che l'offerta È ufficiale Cioè quindi C'è stata un'offerta È arrivata un'offerta Al Milan Per Ante Rebic E io credo Che non sarebbe Così clamoroso Se si decidesse Di farlo partire Soprattutto se l'offerta Ti permettesse Di fare una minima plus valenza Per gli anni Che sono rimasti Di contratto Eccetera O per lo più Se la cifra Di gestione Ti permettesse Appunto Di magari Creare un tesoretto Appunto Per spendere Poi sul mercato Poi aggiungo Anche un'altra cosa Rebic A me non mi è mai Dispiaciuto troppo Però a Pioli Mi sembra che non Si è mai piaciuto Tantissimo Nel senso che Comunque lui aveva Delle caratteristiche Da ala e da punta E spesso il Milan Ha avuto problemi Sia davanti Che largo Ora Rebic ha avuto I suoi problemi fisici Quindi in primis Ci va il fatto Che Rebic Abbia avuto I suoi problemi fisici Però comunque Non mi è mai sembrato Pioli ma così come I tifosi del Milan Tranquilli nel vedere Rebic davanti Quando Rebic è stato messo Largo faceva movimenti Di Giroud come punta Quando è stato messo punta Faceva movimenti Da giocatore largo Insomma Credo che La sua permanenza Al Milan sia stata Tutto sommato positiva Però Giocatore come Rebic Per un Milan Che vince uno scusetto E un giocatore da panchina Se arriva un'offerta importante Per un calciatore così O anche discreta Come offerta È giusto che vada fatto partire Alla posizione numero 4 Quindi ad un passo Dal podio Ad un passo Dal paradiso Della giornata Il Marsiglia Che ha perso Igor Tudor E io continuo a non capire Vi dico la verità Continuo a non comprendere La situazione di Igor Tudor Perché? Perché tutto mi fa pensare Mi faceva pensare Che Igor Tudor S'ha ribandato Alla Juventus Tudor era stato vice Alla Juventus Tudor aveva fatto bene Al Marsiglia E ha deciso A fine anno di andare via Cioè quindi Rimango così Nel senso Perché Tudor è andato via? Perché Tudor ha lasciato Il Marsiglia Se non ha una panchina pronta? E allora io pensavo Fosse quella della Juventus Però la Juventus Conferma Massimiliano Allegri Allegri addirittura Rifiuta La rabbia E un sacco di soldi Per Che fare Per Non andare via Dalla Juventus E quindi Faccio fatica a credere Che a questo punto Tudor abbia la panchina pronta O comunque Che questa panchina pronta Sia Quella del Quella del Della Juventus Però fatto sta Che vi ho detto Tutte queste cose Ma la cosa più importante È che In questo momento Il Marsiglia Per sostituire i Igor Tudor Starebbe pensando Ad un altro allenatore Che arriva dal nostro campionato A differenza di Tudor Però è italiano Ed è Fabio Grosso Del Frosinone Ora Chiaramente È una situazione abbastanza difficile Perché Fabio Grosso Ha vinto la serie B Con il Frosinone E quindi il prossimo anno Cioè tra due mesi Tre mesi Sarà l'allenatore Del Frosinone Del Frosinone In serie A E da una parte Io capisco La scelta del Marsiglia Innanzitutto Qui dicono Che il direttore sportivo Javier Ribalta Lo voleva già Quando era a Parma Però non è riuscito A prenderlo Adesso vorrebbe portarlo Al Marsiglia E poi comunque Lui Grosso Conosce molto bene Il calcio francese Perché ha giocato Già in Ligani In passato Con la maglia Del Lione Quindi sembra Una pista Assolutamente credibile Ora qual è La situazione La situazione è che Da una parte Grosso probabilmente Avrebbe piacere Di giocarsi La serie A Con il Frosinone Però parliamoci chiaro È difficile credere Che poi Grosso Vada a rifiutare Un'offerta di questo tipo Vi spiego anche il motivo Se tu vai a prendere Se tu vai ad allenare Il Marsiglia E comunque È difficile Che poi scendi Arrivi ad un livello In cui magari Se ti va male L'anno prossimo Vai ad allenare il Nant Se tu vai ad allenare Il Frosinone E comunque fai male Perché comunque Sulla carta Sarai una delle due o tre Squadre più scarse Del prossimo campionato Non credo che il Frosinone Farà un istantima Per vincere lo Scudetto Per arrivare in Europa Comunque non farà Un istantima La Monza Quindi rimarrà comunque Un allenatore Che allena una squadra Che cerca di salvarsi Disperatamente Ecco Se dovesse venire Sonderato Se dovesse riscendere Con il Frosinone L'anno prossimo Ce lo ritroviamo in B Con un'altra squadra Cioè quindi Gli mancherebbe Quel passo in più Certo ti priveresti Della grande gioia All'improvviso Però andresti ad allenare Il Marsiglia Che l'anno prossimo Farà la Champions League Fabio Grosso avrà la possibilità Di allenare in Champions League Tra l'altro C'hai magari il culo Di beccare un girone Semplice come quest'anno Che poi Tudor Ha completamente fallito Il girone Ma Tudor ragazzi Aveva il Tottenham Aveva il Francoforte Aveva lo Sporting Di Lisbona Cioè questo Questo girone Il Marsiglia Lo può tranquillamente passare Se ti capita un girone Di questo tipo E sei Fabio Grosso Rischia addirittura Di andare agli ottavi di finale Ecco io forse Fossi Fabio Grosso Quest'offerta L'accetterei Ma capiremo appunto A breve Quando il Marsiglia Andrà effettivamente A fare questa offerta Al momento sono solo Dei grandi punti interrogativi Sul podio Alla posizione numero 3 Troviamo il Milan Eccolo Di nuovo il Milan Come vi dicevo Che fa dei passi in avanti Per Ciucuezze E nel frattempo Monitora anche Un altro calciatore Ne parla di Marzio Nel calcio mercato L'originale Credo si chiami così Cioè la trasmissione Delle ore 23 E il Milan sta facendo Sta con data a fare i casting Per la fascia testa Chiaramente il Milan Aveva praticamente Ve ne avevo parlato Da quello che si dice Preso Domenico Berardi Ma l'aver cacciato Maldini Ha costretto appunto Berardi a far saltare L'appuntamento E quindi Si è ricominciati Da capo E adesso Berardi sembra Molto vicino alla Lazio Allora il Milan Fa i casting Per l'esterno destro Non andrà L'anno prossimo Il Milan Ad affrontare un campionato Con Selme Kerr E con Messias E quindi dovrà Necessariamente andare Su altri calciatori C'è questo Chukwez Che è molto molto forte Gioca nel Villareal È un esterno destro Tra l'altro Va in scarenza Non quest'anno ovviamente Sennò sarebbe già Parametro zero Praticamente Ma all'anno prossimo E questo permetterebbe Di chiedere Uno sconto Rispetto ai 25 milioni Che in questo momento Vorrebbe ricevere Il Villareal Per prenderlo In questo momento Il Milan punta Sul fatto che Gli manca un anno Di contratto E di inserire Magari un 20% Su una futura rivendita In modo di pagarlo 16-17 milioni di euro È difficile Che il Villareal Accetti di abbassare Così tanto la cifra Non ci sono state Ancora offerte ufficiali Però l'idea È quella di cercare Prima di parlare Con il giocatore Come riporto ovviamente Di Marzio E poi di spostarsi A parlare con la società Quando si ha l'ok Dal giocatore In questa settimana Infatti è stato Fissato un appuntamento Tra il Milan E l'enturaci del giocatore Che si incontreranno Per parlare Al di là di Cucqueze Che io proprio Non ce la faccio Il Milan Avrebbe pensato E starebbe pensando Anche a Marcus Turam Marcus Turam È un altro Gran calciatore Lo abbiamo conosciuto È un altro tipo Di giocatore È una punta Quindi verrebbe A sostituire numericamente Zlatan Ibrahimovic E se il Milan Riesce a cederlo Magari in Turchia Come si diceva Anche Oltre che Rebic C'è anche Orighi Quindi sarebbe L'alternanza Tra Marcus Turam E Zlatan E Olivier Giroud Il problema qual è? Il problema è che Visto che Turam È un parametro zero Vuole guadagnare Proprio possibile Dal suo Stipendio E quindi chiede 6 milioni di euro L'anno Ora il Milan Che ha un progetto Di gioventù Il Milan Che ha un progetto Di futuro Il Milan Che ha un progetto Di costruzione Gli farebbe molto Vici ad avere un giocatore Giovane come Marcus Turam Ma farebbe contratti Tipo quadri e nali E pensare che per 4 anni Debba pagare Uno stipendio Di 6 milioni di euro L'anno Per 4 anni Quindi andremo 6, 12, 18 24 milioni di euro Stiamo parlando Di una cifra Mio modesto parere Oltremodo esagerata Quindi io credo Che l'unico accordo Per arrivare A prendere Un giocatore Come Turam Sia quello Di vederlo Accettare 4,5 Circa 4,4,5 Cosa che però Vi dico la verità Per me non farà Io credo che Turam alla fine Andrà in Premier League In Premier lo trova Semplice Un club che gli dia 6 milioni di euro Magari anche un Everton Per dire che gli da 6 milioni di euro Lo trova tranquillamente E quindi credo che Alla fine vedremo Quell'epilogo lì Alla posizione numero 2 Buone notizie Dopo le brutte notizie Dopo la gioia Quindi gioia Tristezza E poi buone notizie Gioia per Guardiola E per il suo vice Sto parlando di Enzo Maresca Che però Dopo la finale di Champions Ha avuto una bruttissima sorpresa Ovvero suo padre Pasquale De Caro È praticamente Sparito nel nulla È sparito nel nulla Non si sapeva più niente L'hanno cercato tutta la notte La polizia eccetera Oggi l'allarme è rientrato Perché è stato Finalmente ritrovato Quindi meno male Una notizia Positiva Per quanto riguarda Questa situazione Che personalmente Credo Non Cioè non ci volesse La notizia iniziale Perché è veramente È stata una cosa Proprio brutta Ieri ero Tanto in apprezzione Stavo cercando di capire Appunto Per quale Cioè cosa fosse successo Alla fine non hanno Specificato cosa è successo Almeno in questo momento In cui sto registrando Però stamattina Poi Sky Sport Ha parlato del fatto Che il Stamattina un paio d'ore fa Che sia stato ritrovato E quindi bene così Tra l'altro vi dico Una piccola cosa Prima che mi domaniate Ma perché Almeno ve lo dico Pasquale De Caro È il padre di Enzo Maresca Che ha scelto però Il nome della madre Il cognome della madre Per quello non hanno Lo stesso cognome Uno fa di cognome De Caro E l'altro fa di cognome Maresca Ve lo volevo dire Perché se no Sicuramente qualcuno chiederà Tipo Eh ma perché Sono due cognomi diversi Come fa ad essere il padre Almeno ve l'ho spiegato E alla posizione Numero uno Questa è una cosa Che prenderà probabilmente Il titolo del video Ma io resto basito Napoli Il candidato numero uno Per la panchina È Paolo Sousa Ora chiaramente Vi dico una cosa Quando parlo del Napoli Dopo lo scorso anno Ci vado i piedi di piombo Perché Perché lo scorso anno Ero stato il primo Come tanti altri A dire Sicuramente Stoccavara Skyler è forte Sicuramente questo team è forte Sicuramente Raspatori farà bene Sicuramente Olivera sarà interessante Però il Napoli Si è indebolito Dissi E invece il Napoli Vince lo scudetto Quindi adesso Qualunque mossa fa il Napoli Che magari non mi convince appieno Comunque credo che sia Faccio fatica a dire Che sia sbagliata Però Paolo Sousa Non riescirei a capirlo Cioè se veramente De Laurentiis Ha 40 candidature Per capire A chi dare il Napoli Il prossimo anno Dopo Luciano Spalletti Perché proprio Paolo Sousa Che è un allenatore Che ha fatto discretamente bene A Firenze Sì Ma adesso Allena la Salernitana Ha fatto anche bene Con la Salernitana E chiaramente Ma tu sei arrivato Ad uno status In cui ti puoi permettere Nagelsmann Cioè tu sei arrivato Ad uno status In cui ti puoi permettere Antonio Conte Tu sei arrivato Ad uno status In cui se ti presentassi Da Vincenzi Tagliano Realmente con un'offerta vera Tagliano Lascerebbe la Fiorentina Per te Cioè quindi La mia domanda Perché andare su Paolo Sousa Sinceramente Non lo capirei E pare Appunto Lo dice Di Marzio Quindi ci fidiamo Tranquillamente Che proprio De Laurenti Si abbia incontrato Abbia incontrato Paolo Sousa E adesso Aspetta la sua decisione Perché nel caso In cui Paolo Sousa Dicesse Sì Sono convinto Vengo a Napoli E già mi sembra Molto strano Il fatto che io Non abbia già detto Sì Nel momento in cui Vedi De Laurenti Spiacere Sì Cioè subito Immediatamente Tutto il rispetto Per la Salernita Ragazzi Ma qui si tratta Di andare Ad allenare La squadra Campione d'Italia Che farà la Champions League Da testa di serie Quindi stiamo parlando Di tutta altra cosa Cioè Paolo Sousa Potrebbe giocarsi Lo scudetto La Supercoppa italiana Si giocherà la Coppa Italia Da testa di serie Ma di che dobbiamo parlare Ci andrei immediatamente io E E Se L'allenatore accetterà Dovesse accettare De Laurenti Si andrebbe a pagare La clausola rescissoria La salernitana Per svincolarlo Un milione di euro Cioè non è che Si parla di Però un milione di euro Costerebbe la sua La sola rescissoria Resto davvero basito Resto davvero basito Pare che La situazione sia Molto semplice Da risolvere Perché addirittura De Laurenti Si ha degli ottimi Rapporti con Eier Volino Che è il presidente Della salernitana E quindi potrebbero Tranquillamente andare a far tutto Con Tarallucci e vino Al tavolo A decidere La firma dell'allenatore Ripeto Ripeto Ha fatto una grande Sagione Paolo Sousa Però Ho dei grossi dubbi Cioè io in serie Avrei provato a prendere Prima Prima Quasi Cioè Dieci allenatori Rispetto che Paolo Sousa Poi ripeto Ci vado con i piedi di piombo Nel caso in cui Il Napoli Dovesse prendere Realmente Sousa Perché poi Qua si parla di una situazione In cui quante volte Il Napoli Mi ha smentito Tante Quindi ad oggi Faccio fatica a dire Ho ragione io Vi dico sempre Ha ragione il Napoli Però Se veramente Se il Napoli non so Caga nessuno Cosa che dubito fortemente Allora capisco Ma se il Napoli Veramente ha 40 candidatori Di allenatori europei Come dice Europei Nel senso vero Del termine Come dice De Laurentiis Probabilmente De Laurentiis Sta scegliendo Non dico il 40esimo Ma almeno il 27-28esimo Cioè dubito Che non ce ne siano Di migliori Per quello che il Napoli Vuole costruire E per il progetto Che il Napoli Vuole aprire Fatemi sapere la vostra Con un commento qua sotto Iscrivetevi al canale Io vi ringrazio tantissimo Mi piace Buonasera Lallene come sempre Ci vediamo al prossimo video E si E si E si E si E si Que parei E si Que parei Che vediamo al prossimo video